Quando ci sono difficoltà nella vita, andiamo alla madre. E quando la vita è felicità, andiamo alla madre pure, a condividere questo. Abbiamo bisogno di recarci in questi oassi di consolazione e di misericordia, dove la fede si esprime in lingua materna, dove si dipongono le fattiche della vita tra le braccia della Madonna e si torna a vivere con la pace del cuore, forse con la pace dei bambini. Grazie.